La nuova costruzione di rifugio europeo di Lanshut nelle Alpi della Zillertal, nuovi partenariati comunali o la riqualificazione del sentiero europeo E5 sono solo alcuni dei progetti sviluppati nell'ambito di Fit4Cooperation, ormai conosciuto da tutti come Fit4Co. Una base del successo di Fit4Co è proprio che parliamo di che ne ha bisogno l'amministrazione nella cooperazione trasfrontaliere. Vuol dire fare progetti del proprio compito con un fabbisogno delle strutture e della popolazione. E poi su questa richiesta del mercato, per così dire, noi abbiamo potuto stabilire un programma di accompagnamento di questo processo dove le amministrazioni di tutti i livelli, anche statali in Austria, la provincia, i comuni, i management di regione, loro hanno sviluppato un progetto proprio che poi con una pianificazione buona ha portato ad un risultato di un piano valido, stabile, che poi ha garantito anche i primi risultati di svolgimento con successo. Il progetto Fit4Co è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Intereg Italia-Austria ed è stato lanciato per la prima volta nel 2019. Per noi come sviluppo personale è stato molto importante, soprattutto per lo scambio di buone pratiche. Noi ci siamo trovati più volte anche in presenza di un coach e abbiamo parlato un po' delle sfide che lo sviluppo del personale ha nei tempi di oggi. È la formazione delle persone, è l'onboarding, è la ricerca di nuovi collaboratori e soprattutto anche lo scambio di buone pratiche. Fit4Co entra nel suo secondo ciclo. I progetti trasfrontalieri possono essere presentati da tutte le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e gli enti di gestione regionale dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino e anche della Carinzia del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Salisburghese. I partecipanti sono supportati da esperti nei settori della gestione di progetti, del finanziamento di progetti e del lavoro interculturale. Per l'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino responsabile dell'organizzazione e l'ufficio comune dell'Euregio di Bolzano. Le idee di progetto Fit4Co possono essere presentate fino al 15 luglio 2024 sul sito www.fit4co.eu